Come è un giocatore di Serie A? Come è un giocatore di Serie A? Come dico sempre, io ringrazio prima di tutto a Dio perché comunque se tu vai a vedere la mia storia è una cosa quasi impossibile nel calcio oggi. E quindi ringrazio soprattutto a Dio perché per me è stato proprio un miracolo, una cosa che non aspettavo mai e quindi c'è da anorare solo lui. Poi con il Crotoni e i miei compagni abbiamo fatto una stagione secondo me al top l'anno scorso perché comunque la squadra giocava, era sempre padrone del campo. Quest'anno ancora facciamo il nostro gioco però bisogna fare un salto in più per portare i punti a casa. Quello che ci serve sono i risultati perché le prestazioni sono sempre stati anche in questa categoria. Per chiudere ma non per ultimo, anzi ci tenevi già a farlo prima, un messaggio di solidarietà verso la città di Crotone? Sì sì, ho già messo anche sul mio profilo Instagram che noi dobbiamo aiutare la città, dobbiamo stare vicino al popolo, quindi invito a tutti quelli che hanno la possibilità di farlo, di aiutare il comune, aiutare le persone per rialzare di nuovo la città dopo questa tragedia che c'è stata e noi siamo sempre vicini al popolo.